Grazie di essere qui a tutti, qualche altra persona deve ancora arrivare e ho il piacere di presentare il progetto al debutto europeo del maestro Vittorio Terenelli che conoscono tanti anni e veramente sono orgoglioso di questa presentazione. Questo progetto tratta dell'importanza dello sport per lo sviluppo cognitivo nei bambini, quindi nell'età prescolare. Personalmente devo dire che nella mia carriera di atleta e maestro di judo non sono occupato di questo aspetto perché in particolare nel judo ci sono dei momenti in cui bisogna prendere delle decisioni, quindi effettuare delle strategie nell'immediato. E questo poi te lo porti anche dietro un po' nella vita, quindi come nel judo in un attimo il tuo avversario cambia una posizione, così anche nella vita può succedere. Quindi ritengo che questo progetto sia estremamente interessante per lo sport e per il judo ma soprattutto perché contribuisce ad avere anche un altro spazio di letteratura che non è mai poco nello sport. Sappiamo bene tutti che soprattutto noi italiani siamo bravi, molte volte però diciamo che si va un po' nel quello che è l'empirico, quindi non guasta avere dei lavori scientifici che diano un contributo maggiore allo sport e a tutti gli operatori sportivi. Quindi ho il piacere di lasciare la parola al maestro Serenelli che ci illustrerà questo progetto. Grazie. Ringrazio tantissimo l'onorevole Mariani ma soprattutto l'amico Felice con il quale abbiamo avuto parecchie volte occasione di parlare delle idee che sottendono a questo progetto. Sono abituato a parlare a gruppi di genitori e di insegnanti e a cercare di emozionare chi ci ascolta parlando del progetto educativo che proponiamo per i loro figli. Spero oggi non essere io quello invece emozionato a dover parlare in una istituzione così importante davanti ai rappresentanti delle grandi istituzioni sportive e amministrative e legislative del nostro paese. Quindi la presentazione che andremo a fare da qui dopo la fase iniziale dei nostri saluti spero riesca a scalfire alcune dei preconcetti che esistono nella relazione tra il movimento e le attività cognitivo-intellettive che spesso vengono vissute in maniera separata. Cercheremo di condividere con voi e di far capire come invece questo percorso sia unico, unitario e che domani questa idea sia condivisa anche in altri ambienti, in altri aspetti. Quindi insieme a me saranno qui a relazionare quelli che sono i cofondatori del progetto, quindi il dottor Fabio Tognone e la dottoressa Sara Fraccaroli che insieme a me cercheranno di illustrare quello che sono il percorso tecnico e didattico di questo progetto. Grazie Vittorio. Ora ci sarà qualche saluto istituzionale e ho veramente il piacere di avere qui con noi il presidente di Sport e Salute, non a caso Sport e Salute, Vito Cozzoli, mio caro amico che devo dire presente dovunque. ci siamo incontrati di essere un evento, questa mattina l'ho visto di nuovo qui, è onnipresente e in particolare quando faccio qualche evento, abbiamo fatto qualche giorno fa, una settimana fa, un evento sul bullismo e ci ha sempre onorato della tua presenza. Quindi la parola al presidente Vito Cozzoli. Grazie all'onorevole Mariani, in verità io sono onnipresente dove c'è da parlare di sport di tutti, i valori dello sport, della promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Quindi ieri sera eravamo a celebrare i nostri atleti, i nuotatori delle Olimpiadi, le nostre medaglie. Qualche giorno fa con l'onorevole Mariani eravamo a parlare di bullismo e oggi stiamo parlando di un'iniziativa molto importante perché l'attenzione che dobbiamo dedicare alla crescita e allo sviluppo dei bambini e soprattutto dei bambini in età prescolare rappresenta una sfida importante per tutti noi che abbiamo delle responsabilità nel mondo sportivo ma anche per tutti noi che siamo genitori, che vogliamo valorizzare un po' la dimensione non soltanto fisica ma sociale dello sport. E questa esigenza è dettata da una consapevolezza, cioè che proprio nell'età prescolare il fanciullo, il bambino acquisisce le capacità motorie, le capacità cognitive che poi lo proietteranno successivamente nell'età scolare. Da questo punto di vista l'età scolare rappresenta un momento fondamentale per la crescita e la formazione del bambino e da questo punto di vista io purtroppo devo rappresentare dei dati molto negativi che caratterizzano il nostro paese. Io da un anno e mezzo dirigo Sport e Salute, che è la Società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita e riscontro un'eredità pesantissima che io ho trovato sulle mie spalle, il fatto che siamo il quinto paese più sedentare d'Europa. È chiaro che stiamo facendo di tutto per risalire questa valutazione dell'Eurobarometro, però questa è la situazione. Ancora peggio nella scuola, perché siamo un paese del G7 che non regala un'ora di educazione fisica, di educazione motoria ai nostri figli. E allora i dati sono ancora ulteriormente peggiori se pensiamo che il 20% dei bambini è in sovrappeso, il 9% è obeso, il 20% non ha svolto alcuna attività fisica, anzi non svolge attività fisica e il 44% dei bambini trascorre più di due ore al giorno davanti alla tv, davanti al tablet e davanti al cellulare. E questi sono dati che ci devono far riflettere. Ripeto, da responsabili delle attività sportive del nostro paese, da responsabili politici, da educatori, da genitori. E allora Sport e Salute è particolarmente impegnata su questo fronte, ha lanciato un piano straordinario per la scuola, che si chiama Scuola Attiva più Scuola più Sport. Ieri è stata attivata la piattaforma per la scelta dei tutor e siamo pronti a partire. Una settimana fa, il 13 settembre, i nostri ragazzi sono tornati in classe, a scuola, e sappiamo come la cultura sportiva è molto importante per tutti noi, e in particolare per Sport e Salute, che ha varato questo piano straordinario di 17 milioni di euro, un investimento che nella storia del paese non ha fatto mai nessuno, insieme al Ministero dell'Istruzione, insieme al CIP per la parte della disabilità, ovviamente con il sostegno del sottosegretario Bezzali. E questo piano straordinario coinvolge un milione e mezzo di bambini, 76 mila classi, il 60% della popolazione scolastica, il 170% in più dell'ultima edizione di questo progetto, che aveva tutt'altra natura, un piano così straordinario non è stato mai varato nel nostro paese, nella prospettiva che finalmente, prima o poi, il Parlamento e il Governo pareranno l'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria. E allora, questo per dirvi che l'attività motoria, che poi anche tramite il gioco, diventa un'attività educativa è fondamentale per la crescita sana dei bambini e quindi bisogna intervenire per promuovere uno stile di vita attivo, perché sappiamo che l'inattività fisica determina delle conseguenze, non soltanto fisiche, ma soprattutto anche sulla dimensione sociale del bambino. E in questo contesto si inserisce, riscuotendo anche tanto successo, la pregevole iniziativa Movimento, è stata organizzata dall'SD Judo MM di Sorgive di Solferino, in provincia di Mantua, che è finalizzata appunto alla maturazione globale del bambino di età 3-6 anni, in termini di sviluppo cognitivo, motorio, sociale, attraverso corsi di attività motorie aperte a tutti i bambini, con il supporto di personale qualificato e particolarmente idoneo svolgere questa attività di sostegno ai bambini. E questa iniziativa è tanto più apprezzabile, perché poi rientra anche in un bando Erasmus dell'Unione Europea, e quindi vuole anche portare oltre i confini nazionali questo progetto, mi pare fornendo personale tecnico proveniente dal Portogallo, dalla Slovenia, dalla Romania, dalla Germania, che poi a sua volta si occuperà di diffondere nei propri paesi di appartenenza alle pratiche motorie dedicate ai bambini. E questa iniziativa è tanto meritoria, perché è la filosofia di sport e salute. Noi questo vogliamo portare avanti, questo è il progetto che noi ci proponiamo, di sostenere e promuovere le politiche pubbliche per la promozione dello sport, dei corretti stili di vita, a tutte le età, ma in particolare per i bambini. E quindi ringrazio l'onorevole Mariani per l'invito, ringrazio voi che, ripeto, meritoriamente state portando avanti un progetto che Sport e Salute sosterrà in tutti i modi. Grazie al Presidente Vito Cozzoli, facciamo un applauso perché... Poi... Un applauso è quello che farà loro, non a me. Quando si parla di sport io mi... Come dire, mi chieda vivo, e poi con tutti questi giudoga, questi campioni. Intanto volevo presentare anche gli altri ospiti, poi a qualcuno lascerò la parola. E' entrata in questo momento la direttrice della Scuola dello Sport nazionale, Rossana Giuffetti. Grazie, Rossana, di essere qui. Rossana è stata anche il capo della preparazione olimpica per tanti anni, abbiamo fatto diverse olimpiane insieme. E poi volevo presentare anche alcuni colleghi che mi sono venuti, l'onorevole Flora Fate, grazie Flora, e l'onorevole Marco Bella. Allora, lascerei la parola ora a Francesca Zaltieri, che è consigliere provinciale di Mantua con la delega all'istruzione, formazione e lavoro. Grazie, ci posso dobbiamo? Prego. Buonasera a tutti, veramente devo dire che come provincia di Mantua, porto i saluti del Presidente che mi ha incaricato di rappresentarlo, anche lui, ma tutta l'amministrazione, tutto il territorio della provincia di Mantua, siamo molto orgogliosi di essere qua presenti, ringrazio l'onorevole Mariani che ha organizzato questa bellissima conferenza stampa, a presentare un progetto movimento di grande valore. Di grande valore perché è il concetto nuovo che porta di connessione fra sport, fra movimento e aspetti cognitivi della crescita. Quindi la portata culturale di questo progetto che vede attorno alla proposta italiana partita da Vittorio Serenelli e dal suo staff, unirsi di un partenariato europeo di grande valore, Slovenia, Portogallo, Romania, Germania, fa sì che veramente si dia un messaggio politico e culturale in senso lato molto importante, tutti insieme cioè per l'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, per la loro formazione, laddove l'attività motoria, lo sport, non sono considerati secondari in questo percorso di apprendimento, ma sono anche funzionali alla crescita cognitiva dei nostri ragazzi. Quindi questo progetto viene realizzato alla luce delle moderne conoscenze della neurofisiologia, ma recupera anche una sapienza antica, la sapienza dei classici, secondo cui sport, mente e corpo, men sano e incorpore sano sono un'unica cosa. Per cui mi sembra un messaggio molto bello che noi diamo di salute ma anche di innovazione didattica educativa che vorremmo davvero entrasse in tutto il sistema delle nostre scuole, del nostro sistema appunto di istruzione. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio il Presidente di Sport e Salute che ci deve lasciare, al Quirinale per le prime saluteci tutti i campioni, siamo con loro, sono stati veramente bravi. Grazie. Sì, ecco, lascio la parola di nuovo al Maestro Serenelli e prima volevo aggiungere soltanto alcune parole che si parla di cultura dello sport e purtroppo questa manca in Italia. Dopo abbiamo tante persone che stanno sul divano, che guardano le partite e poche, molto di meno purtroppo, non a casa, che fanno poco sport e soprattutto fanno fare poco sport ai bambini. Quindi io sono in politica da pochi anni, il mio obiettivo è soprattutto questo. Mi sono impegnato in questa corsa politica proprio per questo, per farci che cresca un po' la cultura sportiva in Italia e in questo ci devo anche aiutare la scuola perché è lì che i nostri bambini devono cominciare a fare sport e devono essere iniziati a cominciare a pensare in un certo modo perché se cominciano da piccoli lo faranno per tutta la vita. Prego, Vittorio. Ti ringrazio. Io inizierei con il presentare il mio staff tecnico con il quale abbiamo iniziato e creato questo cammino, quindi la dottoressa Fraccaroli che è già in postazione e vorrei anche il dottor Tognon per iniziare a raccontare un pochettino la storia di dove inizia e come si è sviluppato questo progetto. Cercheremo di essere brevi e di entrare subito nel merito in modo tale di non perdere tempi in fronzoli. Ok, vediamo se parte la presentazione. Il progetto nasce da un percorso che possiamo chiamare serendipiti, cioè qualcosa che non stavamo cercando ma che abbiamo incontrato. Io ho iniziato a interessarmi ad alcuni aspetti particolari dello sviluppo della mente quando all'università facendo veterinaria mi sono imbattuto in Conran Lawrence, famoso etologo che aveva scoperto l'imprinting sugli animali, in modo particolare sugli uccelli e di quanto i primissimi momenti della vita degli animali fossero influenzati non tanto dal patrimonio genetico ma dalla qualità della tipologia dell'ambiente in cui questi crescevano, addirittura modificando in maniera radicale, i loro comportamenti. Poi iniziando la mia pratica di insegnante di Judo, queste cose continuavano a rincontrarsi. La mente, lo sviluppo della mente, il cuore e il corpo si trovavano ad essere valorizzati insieme guardati da tanti punti di vista. Lo stesso fondatore del metodo Judo cerca in una visione orientale e olistica di mettere insieme il corpo e la mente in un'unica azione. Ma tanti altri studiosi, ricercatori nei quali mi sono imbattuto arrivavano sempre alla stessa conclusione. le due cose non sono separate e crescono e funzionano assieme. Così nella fine degli anni Ottanta decido di occuparmi anche di insegnamento di Judo ai disabili adulti con difficoltà cognitivo-relazionale e ospito nel 2004 una conferenza nazionale dove vengono presentati alcuni meccanismi dello sviluppo della mente e quando questo percorso si inceppa come nascono alcune disabilità. Confrontandomi con l'amico dottor Tognon all'epoca dico ma perché ci si confronta? Perché quello che è terapia nei confronti di un fallimento di un percorso biologico non può essere prevenzione nei confronti dei bambini comuni? Non c'è una differenza biologica tra un comune e quello che socialmente definiamo disabile. È una catalogazione di tipo sociale e abbiamo iniziato a ipotizzare un percorso che utilizzasse le stesse metodiche inizialmente usate in terapia ma trasformate in giochi per agire prima che il problema si mostri. E quindi abbiamo deciso di iniziare questo percorso con pochi bambini quindi nel 2005 un gruppettino di 11 piccoli eroi che si sono avventurati in una cosa che era del tutto empirica e sperimentale e hanno iniziato a lavorare con noi. ma la cosa ci ha sorpreso perché il lavoro funzionava i bambini erano contenti i bambini crescevano e miglioravano in tantissime caratteristiche aver creato una sequenza di movimenti usati in altri ambienti ma adattati allo specifico target dei bambini 3-6 anni davano dei risultati. Quindi siamo partiti questi 11 bambini poi abbiamo riempito il corso poi abbiamo dovuto raddoppiare il corso poi abbiamo dovuto aprire una sede staccata poi altri tecnici negli anni successivi hanno visto quanto i nostri bambini che iniziavano a fare l'attività sportiva fossero performanti non solo erano brillanti a scuola rispetto alla media ma erano anche più performanti fisicamente quindi la loro prestazione sportiva migliorava e così altri si sono avvicinati a noi si sono avvicinati a noi e hanno voluto capire che cosa ci stesse dietro a questa iniziativa e chiaramente essendo io nell'ambiente del Judo erano quasi esclusivamente insegnanti di Judo che mi chiedevano informazioni ma poi pian pianino genitori che non avevano niente a che fare con la nostra disciplina sportiva che magari erano insegnanti di scuola o insegnanti della della scuola dell'infanzia mi hanno chiesto ma perché succede questo e abbiamo allargato il nostro gruppo altri amici si sono aggiunti e proprio un genitore che aveva il suo bambino da me dice alla sua nipote studentessa di scienze pedagogiche dice ma perché non vai a vedere che cosa succede in quella palestra e una giovane studentessa che oggi è la dottoressa Sara Fraccaroli si avvicina al nostro progetto e io non immaginavo che anche in questo caso un incontro del tutto casuale non ricercato avrebbe portato dei risultati ancora più significativi che ci hanno lanciato in alto cioè grazie alla ricerca azione durata per un anno dove questa ricerca azione inizialmente era finalizzata solo a scrivere una tesi di laurea ma poi in realtà è stata una pietra migliare del nostro percorso grazie alla collaborazione dell'università di pedagogia di Verona abbiamo creato un profilo di valutazione neuromotoria del bambino quindi un qualcosa che potesse misurare realmente quali erano alcune performance del bambino in entrata e quali fossero i risultati in uscita quindi non era più un'idea che raccontavamo noi non dicevamo più i bambini migliorano non era una sensazione una percezione ma potevamo dire su un gruppo con quali percentuali migliorassero queste cose quindi l'idea di confrontarsi con qualcuno e dire bene se io prendo una popolazione e faccio questo tipo di lavoro ti posso dire approssimativamente quanto questi precursori all'apprendimento scolare miglioreranno e quindi la performance scolastica sarà migliore ma sarà migliore anche lo stato fisico il benessere il presidente Cozzoli prima parlava di dati numerici percentuali sulla bambini inattivi con obesità o sovrappeso che è un problema diffuso in buona parte d'Europa e dei paesi occidentali bene ma tutto questo ha un costo ha un costo sociale e politico ed economico pesantissimo la prevenzione attraverso l'imprinting in un bambino molto piccolo su uno stile di vita motorio non solo produce un bambino più performante ma produce un bambino più sereno perché l'autostima non nasce da una pacca sulla spalla nasce dalla consapevolezza di saper fare quando sei in grado di fare e vedi che migliori la tua autostima cresce e quindi tutta una serie di altre devianze sociali vengono preventivamente abbattute e quindi relazioni quindi stili di vita un adulto difficilmente diventa attivo in età adulta si recupera la proprio stile di vita quando lo ha iniziato molto presto bene se questo molto presto è ancora in una fase di imprinting è ancora più importante quindi tutti questi risultati hanno allargato la base delle persone che si interessavano al nostro progetto così nel 2013 abbiamo deciso di fondare da quello che inizialmente era giudo giocando un'associazione che coinvolgesse tutti i tecnici d'Italia che si erano avvicinati così nasce Movimento ASD e quella giovane studentessa di cui vi parlavo prima ne è diventata la presidente di questa organizzazione quindi il mio braccio destro adesso anche io divento il suo pian pianino braccio destro visto che dirige buona parte del lavoro anche il numero dei bambini è cresciuto oggi sommariamente contiamo più di 4.000 bambini in Italia che nelle varie regioni seguono protocolli di lavoro creati dal sistema Movimento quindi una piccola associazione sportiva di base in un piccolo paese dove vivo io a Solferino a 2.000 abitanti poco più di 2.000 abitanti da lì siamo riusciti a coinvolgere decine e decine di scuole e società sportive con adesso migliaia di bambini che seguono questo protocollo senza un risultato tangibile oggettivo non ci avrebbero seguito se fossero stati racconti o favolette dopo un po' si svanisce invece il risultato ci ha gratificato ci ha soddisfatto fino a raggiungere questo l'obiettivo di quello che stiamo presentando noi oggi cioè arrivare a concorrere a un bando europeo poter vincere un bando europeo grazie a questa idea a questa capacità di essere innovativi nel proporsi ai bambini un dato ancora che sottolineava il presidente Cozzoli è la quantità di intrattenimento elettronico quotidiano dei bambini e dei ragazzi oggi viene dato come un male quasi necessario perché non si sa come fare altrimenti io spesso lo paragono al fumo passivo è vero poche decine di anni fa il fumo passivo era qualcosa che si accettava gli adulti fumavano in presenza di altri adulti in locali chiusi in presenza di bambini e non è stata la consapevolezza del danno del fumo passivo che ha fatto cambiare il comportamento hanno dovuto cambiare le istituzioni hanno dovuto cambiare le norme e costringere pian pianino persone che hanno la necessità di avere una normativa di legge perché dopo la forzatura burocratica è arrivata una coscienza ma la coscienza non è nata per la consapevolezza anche oggi la maggior parte degli adulti sa quanto l'esposizione all'elettronica dei bambini sia dannosa e gli studi stanno riempendo veramente la letteratura scientifica ma non è ancora stato sufficientemente performante nei confronti della volontà di cambiare gli stili di comportamento quindi i bambini ancora vengono parcheggiati tenuti aspettato che crescano e noi oggi cercheremo di sfondare ancora un po' di più questo muro e vedere di comprendere insieme a voi quali sono i meccanismi che hanno fatto diventare movimento quello che è e quali sono gli argomenti per i quali è possibile è possibile davvero attraverso piccoli passaggi cambiare degli stili di vita che avranno un effetto domino su tutto il resto della vita di quel oggi bambino domani adulto siamo in un ambiente politico istituzionale io parlavo con la professoressa Zaltieri del costo economico delle amministrazioni locali nell'assistere i bambini con lievi disturbi dell'apprendimento si parla di milioni di euro per ogni singola provincia che vengono spesi non tanto per risolvere il problema ma riducendolo veramente in sintesi perché il bambino con un piccolo deficit arrivi a scuola con i compiti fatti e solo perché arrivi a scuola con i compiti fatti senza aver risolto il problema spendiamo in ogni singola amministrazione locale centinaia di migliaia di euro se non milioni di euro e non spostiamo il problema ecco magari attraverso le istituzioni un giorno arriveremo a comprendere che ci sono dei meccanismi che possono dare una mano a andare in questa direzione e quindi che il risparmio oggi si dice che un euro investito nella prevenzione motoria fa risparmiare 8 euro alla sanità bene se questo è fatto nei ragazzi e negli adulti è vero se è fatto in un bambino in età prescolare possiamo tranquillamente raddoppiare queste cifre quindi il risparmio che la politica potrebbe avere in una progettualità di questo genere sarebbe altissimo vi ringrazio adesso lascio la parola alla parte tecnica della presentazione il movimento è strettamente legato agli apprendimenti scolastici il movimento è strettamente legato soprattutto a tutti quei precursori scolastici nell'apprendimento nell'apprendimento e ci teniamo sempre di più che questo percorso che questo percorso continui ad essere positivo e propositivo in movimento possiamo tranquillamente aiutare tantissimi bambini a maturare tutti quei prerequisiti tutte quelle strumentalità motorie che grazie ad attività motorie molto semplici banali possono garantire una buona riuscita scolastica soprattutto strumentale in che cosa movimento incide negli apprendimenti se noi proviamo a pensare alla scuola e ai bambini che entrano nella scuola primaria la prima cosa che ci viene in mente è che un bambino deve imparare a leggere a scrivere e a far di conto ok però effettivamente se noi andiamo ad indagare su quelle che sono le basi per poter leggere per poter scrivere per poter far di conto troviamo che le basi sono strettamente legate alla maturazione motoria del bambino nelle strumentalità visive noi abbiamo dei prerequisiti abbiamo dei precursori soprattutto visivi visivi di moltilità oculare che permettono al bambino di leggere che permettono al bambino di leggere con molta più facilità possiamo pensare alla convergenza visiva la convergenza visiva che dovrebbe già maturare in un bambino 12 mesi spesso e volentieri non la ritroviamo in un bambino di tre anni di quattro anni senza convergenza visiva che cosa succede succede che il bambino perde attenzione a quello che sta guardando succede che va in difficoltà succede che si distrae facilmente alza lo sguardo per poi riprendere l'attenzione sulla parola scritta per poterla leggere correttamente un altro prerequisito importantissimo è legato al movimento degli occhi da sinistra a destra dall'alto verso il basso a tutti i movimenti saccadici è legato a tutti i punti in cui l'occhio si ferma le varie fissazioni per poter riuscire a etichettare correttamente la lettera la parola che deve essere eletta e questo dipende tantissimo dalla maturazione dell'equilibrio del bambino il bambino che non ha un buon equilibrio è un bambino che spesso muove la testa per leggere ma muovere la testa per leggere significa faticare tantissimo e nel tempo significa fare tantissimi errori non solo un altro problema è quello legato al saltare spazi per cui il movimento degli occhi è importantissimo se non fondamentale e dipende strettamente dall'equilibrio un altro prerequisito molto importante è legato a ciò che viene chiamata indipendenza tra visione udito linguaggio questa indipendenza tra visione udito linguaggio mi serve per poter continuare a leggere un brano mantenendo il segno col dito ed etichettarlo con una certa fluidità per cui che cosa succede che il bambino che non ha maturato questa competenza è il bambino che per esempio in classe fa molta fatica a guardare e ad ascoltare contemporaneamente non perché non lo vuole fare ma perché non ci riesce e allora ci troviamo delle insegnanti che ci dicono ma ci sono bambini in classe che quando io parlo a loro e chiedo loro di guardarmi non mi ascoltano mentre invece se fanno tutt'altra cosa sanno benissimo che cosa io ho detto ecco questo è legato all'indipendenza del del linguaggio accoppiata alla visione e all'udito riuscire a fare tre cose contemporaneamente mentre io leggo il mio sguardo sul testo devo poter etichettare quello che leggo per cui dare un suono alla lettera alla parola che vedo ma non solo devo sentire anche il suono e ad un certo punto questo suono diventerà significato e per poter fare questo ho bisogno di avere una maturazione ed equilibrio molto importante a livello di grafia noi ci troviamo bambini ecco teniamo in considerazione che la scrittura è un atto molto sofisticato ma è un atto motorio è un atto altamente sofisticato che noi eseguiamo con le nostre dita di una sola mano giustamente succede 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 che il bambino deve poter riuscire ad impugnare uno strumento ed usarlo in modo preciso e perfetto in uno spazio ma impugnare uno strumento è molto difficile impugnare una penna impugnare una matita impugnare un pennareo per un bambino è molto difficile perché è molto difficile noi ci troviamo tantissime impugnature sbagliate nella scuola primaria è molto difficile perché impugnare correttamente dipende da una buona qualità della corsa se la corsa è una corsa armonica se la corsa è una corsa in schema crociato se una corsa è una corsa con le braccia libere rispetto al corpo il bambino è pronto per impugnare correttamente uno strumento sappiamo tutti benissimo perché siamo tutti nel mondo dello sport che la maturazione avviene dal centro alla periferia è prossimo di stale per cui se le spalle non sorreggono le braccia le braccia non possono sorreggere i polsi per poter colorare il polso non può rendere le dita fluide per poter scrivere per cui la corsa è fondamentale altro prerequisito importantissimo per la scrittura è legato soprattutto al tono muscolare il bambino che ha poco tono muscolare è un bambino che si stanca che si stanca in fretta è un bambino che fa fatica e che spesso calcio altri bambini ultimo elemento importantissimo da tenere in considerazione è legato alla spazialità la spazialità è legata alla matematica noi sappiamo che nella matematica nell'aritmetica il concetto della posizione è fondamentale l'aritmetica è posizionale un numero se io lo metto o a destra o a sinistra ha un valore di un certo tipo per cui il fatto di riuscire a comprendere questo dipende da che cosa soprattutto da quanto io riesco a mentalizzare il mio corpo all'interno di uno spazio il mio corpo diventa un punto è sempre più conosciuto e per fare questo ho necessità di lavorare in uno spazio con delle regole con dei ritmi ben precisi ma ho bisogno anche soprattutto di fare fatica il concetto della fatica che con i bambini è stato accantonato è un concetto che nel gioco deve essere ripreso e che noi riprendiamo perché è importantissimo vi lascio con un pensiero che continuiamo a ripetere e che è un pensiero che ci tocca in tutto ciò che facciamo ed è questo noi siamo convinti che l'attenzione al compito motorio soprattutto dei bambini si trasformerà sicuramente all'attenzione nel compito cognitivo per cui il bambino che eseguirà correttamente giochi attività motorie sarà un bambino facilitato soprattutto quando dovrà fare dei lavori seduto tavolino a scuola grazie ora lascio la parola alla dottoressa Fraccaroli che vi parlerà di movimento buongiorno allora il mio collega dottor Ottognon ha detto ha spiegato molto bene quello che sono i nostri obiettivi a noi come con il progetto Movimente interessa che i bambini si sappiano muovere e grazie a tutto quello che lui ha spiegato quindi cosa serve al bambino per stare a scuola noi lo andiamo a incentivare a crescere a sviluppare attraverso gli esercizi che noi proponiamo nel corso di Movimente per cui la teoria che ci ha appena spiegato Fabio e l'esperienza più che decennale che ha spiegato Vittorio ha permesso di creare nel corso del tempo un progetto strutturato valido e che se vogliamo definirlo lo definiamo come un'attività come un progetto di attività di tipo neuromotorio per lo sviluppo delle abilità intellettive e dei precursori all'apprendimento scolastico per i bambini dai 3 ai 6 anni perché 3-6 anni proprio prima di andare a scuola paradossalmente arrivare a scuola è già quasi un po' troppo tardi per sviluppare questa abilità noi abbiamo così costruito attraverso quelle che sono le conoscenze che ci arrivano dagli studi neuroscientifici e attraverso quella che è la pratica che facciamo poi con i bambini un percorso noi lo definiamo come un percorso di crescita perché è globale a noi interessa la cura del bambino a 360 gradi sappiamo che attraverso l'attività motoria andiamo a stimolare oltre che la fisicità anche tutto quell'aspetto quegli aspetti quelle strumentalità che però che poi diventeranno abilità cognitive superiori sofisticate che ci permettono di essere unici per creare quelle che sono le nostre individualità e così facendo riusciamo a ehm dal da da una piccola attività ok che ehm ci ci vede coinvolti gruppi di bambini ehm in una palestra perché è un bello spazio un ampio spazio ci ha accolto il mondo del judo ma è un'attività che si può ripetere in qualsiasi ambiente sportivo e attraverso lo spazio la sperimentazione del corpo eh il bambino vive delle esperienze delle esperienze sensoriali ma delle esperienze di vita e la nostra è una proposta che viene mediata da quella che deve essere il mondo del bambino per cui diventa importantissimo eh quella che è la caratteristica attraverso il gioco eh riusciamo a ehm coinvolgere tutti i bambini quello che è la eh ci piace sottolineare è la grandiosità del progetto Movimento che proprio per la semplicità ma allo stesso tempo l'attenzione la cura e la responsabilità che i nostri tecnici eh portano nel rapporto con i bambini eh si riesce a instaurare quel rapporto unico di crescita per cui i bambini vivono un'esperienza gratificante divertente eh anche un po' faticosa come diceva Fabio del dottor Tognon eh faticosa sì perché attraverso la fatica noi percepiamo prendiamo consapevolezza di noi e un bambino che prende una buona consapevolezza di sé è a tutti gli effetti un bambino sereno felice che può eh relazionarsi con gli altri costruire rapporti perché dove c'è lo spazio del mio corpo e lo percepisco so anche trovare il limite del mio corpo che incontra il corpo dell'altro eh diventa importantissimo quella che è la possibilità di dare a tutti i bambini comuni e con difficoltà la possibilità di sperimentare e eh attraverso le attività del progetto movimento tutti i bambini vengono inclusi tant'è che eh da la nostra piccola realtà in una palestra di judo ad oggi piano piano è cresciuta è cresciuta attraverso quello che è stato un semplicissimo passaparola che ha visto per primi ehm le nostre famiglie quello che è la crescita del bambino è prendersi a carico di tutta la famiglia la famiglia è il primo eh nostro interlocutore vogliamo condividere con lei quali sono i nostri obiettivi e condividere con lei quel pezzettino di percorso di crescita dei loro figli diventa importantissimo ehm creare creare un rapporto e nel corso del tempo questo questo passaparola ha creato eh una rete che ha passato la provincia la regione a livello nazionale e e oggi con oggi e domani passeremo a livello europeo ehm ci teniamo a a sottolineare quanto sia eh importante la sfera motoria che sia funzionale allo sviluppo intellettivo per il benessere delle future generazioni e con questo io vi ringrazio eh passo pure la parola grazie mille bene io non posso solo che ringraziare eh tutti coloro che sono intervenuti veramente eh nelle cose estremamente interessanti che riguardano soprattutto i genitori ma anche insegnanti e soprattutto in questo momento di pandemia dove avremo degli effetti purtroppo devastanti su tutti i ragazzi che sono chiusi in casa e e quindi ancora più importante bene e siamo quasi alla fine e io volevo lasciare la parola alla dottoressa Rossana Ciuffetti per sicuramente per dirci qualcosa di interessante prego Rossana grazie onorevole Mariani buon pomeriggio io devo dire il presidente ha esposto quelle che sono le finalità di sport e salute ma intanto vi ringrazio perché non conoscevo il progetto ed è molto interessante e e devo dire che come scuola dello sport la scuola dello sport di sport e salute si occupa è un centro di alta formazione soprattutto per il mondo dei tecnici e storicamente nasce nel 66 e veramente si sviluppa soprattutto per nel verso il mondo degli atleti verso il mondo dell'agonismo e quindi del tecnico dello sport di alta prestazione ma devo dire con le nuove finalità di sport e salute in questo momento noi abbiamo sviluppato un programma di formazione che va effettivamente si rivolge non soltanto quindi al mondo dei tecnici ma in realtà a tutti a tutti i cittadini quindi a tutti gli italiani quindi mi fa molto piacere perché sicuramente poi ci metteremo d'accordo ma possiamo dare diffusione anche noi a questo bellissimo progetto che appunto nasce un po' come nascono i sogni le medaglie olimpiche nascono sempre in piccole palestre e poi diventano diventano imprese straordinarie oggi c'è la cerimonia al Quirinale e io ho il piacere di ricordare un altro sport che è sempre uno sport di combattimento il Takewondo la medaglia la medaglia di Vito dell'Aquila che è stato il primo oro di Tokyo nasce in una palestra di un piccolo centro un centro che si chiama Mesagne che sta in Puglia ed è la stessa palestra che ai giochi olimpici di Londra aveva dato la medaglia di Carlo Molfetta ma lo dico perché se c'è un luogo dove ci si impegna dove ci si studia dove si vuole raggiungere un grande risultato in qualsiasi campo questo succede quindi mi fa molto piacere perché ho sentito delle cose molto interessanti perché nascono con un progetto di volontariato in realtà sempre che nasce dal mondo dello sport e devo dire anche un po' di filosofia orientale in tutta questa diciamo in questo in questo racconto soprattutto oggi che diciamo lo sport sta cercando fortemente di entrare anche nella primaria stiamo lavorando fortissimamente perché ci sia questa questo insegnante diciamo questo tutor nella scuola primaria per noi sarebbe veramente molto importante perché sarebbe un passaggio culturale estremamente valido e poi perché effettivamente si inizia a fare un c'è un un approccio culturale allo sport molto diverso quindi non soltanto all'apprendimento eccetera stiamo lavorando moltissimo anche sul discorso dell'orientamento anche allo studio e anche questo è per noi un momento come scuola dello sport sto dicendo insieme all'associazione italiana calciatori stiamo lavorando ad un ad un ad un progetto di questo tipo ma questo perché stiamo cercando veramente di inserire lo sport nella cultura di tutti i cittadini per il momento noi copriamo soprattutto il nostro mondo ma il target nuovo di sport e salute è quello di rivolgerci a tutti a tutti i cittadini italiani grazie soprattutto per questa bella notizia che ci ha dato che insomma anche la scuola di sport potrebbe essere interessata a questo progetto quindi questo farà molto piacere al maestro Serenelli sì no possiamo veramente organizzare possiamo fare un webinar che diciamo dedicato proprio al progetto e lo proviamo facciamo un live webinar alla scuola dello sport mi fa molto piacere perché è molto interessante sicuramente sicuramente molto utile poi può diventare noi diciamo lavoriamo anche con molte società sportive quindi l'idea è anche quella di arrivare a formare le altre società sportive per cercare di promuoverlo su tutto il territorio ma noi c'è molto di più è molto interessante la ringrazio grazie scusami volevo volevo ringraziare la direttrice e dire che noi guardiamo ancora più avanti nel senso che ci piace tantissimo l'idea di coinvolgere tutto il mondo dello sport ma noi non siamo solo per lo sport siamo per il movimento siamo perché coinvolga anche quella fascia di età come i bambini molto piccoli o come chi è già uscito da una fascia di età diciamo agonistica a far sì che il movimento rimanga un patrimonio culturale di tutte le persone indipendentemente dal movimento sportivo quindi è giustissimo perché è un veicolo importantissimo di diffusione ma noi vogliamo andare anche oltre abbiamo delle ambizioni grandissime vorremmo farlo per tutti davvero bene sì come diceva anche prima Rosana bisogna sognare in grande conosciamo entrambi i personaggi dello sport qualcuno è stato mio allievo Rossana ne conosce anche alcuni più di me in cui hanno sognato in grande sono arrivati a vincere le olimpiadi quindi bisogna sognare in grande prima di un attimo poi presenterò la mia collega e mi aggancio a quello che diceva Rossana Ciuffetti dell'importanza appunto dello sport ma soprattutto dell'importanza della politica che si debba occupare di più dello sport in questo momento perché in questo momento in questi questo è stato un anno straordinario dello sport l'abbiamo visto con il calcio con le olimpiadi con le paraolimpiadi oggi sono al coordinale ricevuti dal presidente dell'aeropubblica però tutti noi politici dobbiamo essere a fianco delle società sportive le piccole società sportive dove nascono tutti questi campioni e se queste società sportive che sono oltre il 40% sembra che chiuderanno dove li prenderemo questi campioni quindi questo è il momento in cui la politica deve scendere in campo per lo sport per le piccole società la parola alla mia collega onorevole Frate e poi un saluto a tutti per la conclusione grazie ringrazio il collega Mariani per questo graditissimo invito ci tenevo a dare un piccolissimo contributo proprio perché appunto viene accolta diciamo questa attenzione da parte della politica che deve effettivamente essere sensibile a questi temi il collega Mariani ha portato in dote a questa legislatura lo sport perché rimane un grande sportivo oltre che un grande maestro quindi va a lui ogni merito dell'iniziativa oltre che chiaramente di chi ha effettivamente realizzato il progetto e questo progetto ha un valore inestimabile proprio in questo momento storico di pandemia perché chiaramente chi ha pagato lo scotto maggiore sono stati bambini sia perché sono stati privati della socialità sia perché anche sono stati privati della scuola che da punto di vista educativo ha rappresentato un enorme gap in questo momento che va recuperato e io vivo in una città difficile come quella di Napoli dove i bambini vivono le famiglie vivono anche in una sola stanza quindi capite bene cosa significa per un ragazzo uscire di casa andare a scuola e soprattutto avere la possibilità di praticare uno sport perché lo sport in tanti casi possa avvare davvero la vita perché ci sono chiaramente delle situazioni difficili dove lo sport non soltanto ha una funzione educativa sociale ma educa i sentimenti alla vita e quindi questa è una cosa fondamentale può essere davvero uno strumento di sabbia per i ragazzi e quindi oltre che chiaramente un'occasione anche di socialità di benessere sociale collettivo e cognitivo come è stato detto bene precedentemente e quindi niente ripartiamo dallo sport secondo me in questo momento storico mai come adesso noi dobbiamo ripartire proprio dallo sport e dalla scuola che rappresentano i pilastri della nostra democrazia consentitemi soprattutto nel nostro vivere collettivo e quindi del nostro prenderci cura del bene comune grazie grazie Flora e Vittorio volevi chiamare volevo invitare i nostri partner europei a fare un saluto per dare il senso di internazionalità di questo incontro quindi se partendo da Loredana Lascau e Rui e Katia vogliono venire a salutare il nostro pubblico ci vorrebbe entrare il nostro buongiorno a tutti buonasera da Romania ci siamo orgogliosi di essere qui con voi di lavorare insieme per questo progetto europeo fare le nostre idee comune europee i nostri bambini che sono tutti nostri beneficiare di queste cose globali essenziali nel loro sviluppo mille grazie facciamo un buon lavoro grazie ciao mi chiamo Katia sono da Slovenia organizzazione e sono molto felice di essere qui oggi e specialmente di essere parte di questo fantastico progetto progetto che è molto felice che possiamo implementare le attività nella nostra comunità nella nostra società e ovviamente alle scuole e altre organizzazioni grazie lei è Katia è il partner appunto della Slovenia è molto felice di essere qui e di essere membro di questo progetto che appunto lavora in connessione con tutta Europa e nulla ha ringraziato e appunto vi porta i saluti della sua associazione ciao a tutti thank you very much it's a real pleasure for us from Portugal our club our organization to be part of this project and to be here today here in this amazing and very important place in this presentation of this project for us we are really enthusiastic with this participation we believe that this project movement and this methodology it's really important to achieve the important goals for the kids before they start in the primary school to have all the skills that they need for better learning not just sports evolution but also in the school and for the growing of the kids so we are really enthusiastic our club organization we have a lot of sports we are from judo but we have about around 10.000 members of all kind of sports so we are really enthusiastic with this methodology and we want to apply this metodology in Portugal and share this methodology and we are really pleased to be here today with you ok grazie mille riviera il nostro partner portoghese dice di essere molto entusiasta di far parte di questo gruppo di lavoro è molto interessato non solo a portare avanti i valori dello sport inclusivo ma soprattutto vorrebbe apprendere in maniera più approfondita la metodologia che Movimento porta avanti proprio perché crede nella condivisione di queste skills di queste abilità nei bambini molto piccoli per produrre dei benefici anch'essi che sono un club di judo ma non solo hanno altre attività vuole imparare il metodo Movimento per poterlo poi applicare in Portogallo e ringrazia tutti dell'ospitalità ed è molto felice di essere presente in questa sala e in questo spazio veramente importante per noi italiani grazie a voi prima prima di chiudere volevo fare personalmente come capofila di questo gruppo di lavoro un ringraziamento alle istituzioni che che ci hanno supportato con il loro patrocinio quindi dalla regione Lombardia alle amministrazioni provinciali di Mantova le amministrazioni comunali di Solferino e Volta Mantovana le istituzioni sportive come i CONI Lombardia e ringrazio soprattutto anche la Filcam e attività sportive confederate che viene anche qui rappresentata con il signor Vieri che hanno voluto sostenerci durante tutto questo percorso quindi davvero un ringraziamento perché anche grazie a loro si siamo riusciti ad arrivare qui oggi sì quindi abbiamo anche un altro ospite e colgo l'occasione per presentarlo cioè nonostante oggi sia una giornata un po' particolare per il voto ci ho raggiunto l'onorevole Colanino e lascio la parola grazie grazie mi scuso per il ritardo ma abbiamo avuto una votazione diciamo sul filo in aula e quindi sono riuscito a raggiungervi solo ora solo un saluto e un ringraziamento e anche diciamo consentitemi come rappresentante di un territorio di esprimere il mio orgoglio vengo da Mantova e rappresento quel territorio qui alla Camera l'amministrazione provinciale rappresentata qui oggi dalla professoressa Francesca Zaltieri ha proposto diciamo questo progetto di sport e apprendimento a tutti i pannere europei e quindi è per noi per la nostra terra per le nostre persone che rappresentiamo un motivo di orgoglio di soddisfazione essere oggi qui insieme a voi nel palazzo dove nel Parlamento del palazzo dei cittadini dove si fanno le leggi e quindi questo ci rende ancora più orgogliosi e veramente grazie per questo progetto per i sentimenti e i valori che ci sono dietro che in una fase come questa dove stiamo tutti quanti cercando di lasciarci alle spalle un periodo buio difficile e di nebbia e guardare in avanti con fiducia e con speranza credo che questo tipo di approccio questi tipi di progetti e e la forza con cui diciamo l'impegno viene portato avanti sono credo coerenti con il desiderio di tutti quanti di guardare ad un futuro con più fiducia quindi grazie anche da parte mia e buon lavoro a tutti grazie sono particolarmente contento che ci ha raggiunto perché insomma sono quasi venuti tutti i rappresentanti delle forze politiche a dimostrazione di quanto lo sport sia trasversale e quindi veramente la politica debba impegnarsi ancora dicevo poco fa prima collega che abbiamo vinto tanto in quest'anno quindi tante società purtroppo chiuderanno quindi noi politici dobbiamo essere attenti oggi ad aiutare come possiamo fare degli sforzi per aiutare queste piccole società grazie a tutti siamo veramente stiamo terminando e grazie anche soprattutto a chi viene da fuori da tutti gli altri paesi vicini e un buon rientro e soprattutto in bocca al lupo per questo progetto che ritengo veramente che sia un progetto fatto veramente bene che aiuterà soprattutto tanti ragazzi e bambini in questa pandemia e li aiuterà a staccarsi anche un po' da questi computer e dal telefonino grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti